Camminhos das Aguas è un brano tradizionale brasiliano che noi abbiamo conosciuto nella versione di Maria Rita che è la figlia di Elis Regina c'è questo cammino sulle acque, questa barca che va e viaggia sulle acque ma soprattutto che ritorna è un viaggio di ritorno il testo dice Tamburo aiutami tu con il tuo ritmo, dammi tu il tempo e il ritmo di questo viaggio verso casa, questo ritorno a casa dove c'è mio padre che aspetta di abbracciarlo a casa a casa a casa a casa il camminho das Aguas mi leva che vuoi vedere il mio padre a casa 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 messi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti